Questa mattina messa crismale per Papa Francesco che invita i sacerdoti a non separare le tre grazie del Vangelo, la verità non negoziabile, la misericordia incondizionata verso tutti, i peccatori e la sua gioia inclusiva. E poi ha aggiunto l'evangelizzazione non può essere presuntuosa. Allora ascoltiamo le parole del Papa in questo stralcio tratto dalla messa crismale di questa mattina. Come ogni discepolo missionario, il sacerdote rende gioioso l'annuncio con tutto il suo essere. E d'altra parte sono proprio i particolari più piccoli, tutti lo abbiamo sperimentato, quelli che meglio contengono e comunicano la gioia, il particolare di chi fa un piccolo passo in più e fa sì che la misericordia trabocchi nelle terre di nessuno, il particolare di chi si decide a concretizzare e fissa giorno e ora dell'incontro, il particolare di chi lascia con mite disponibilità che usino il suo tempo. Il lieto annuncio può sembrare semplicemente un altro modo di dire Vangelo, come buona novella o buona notizia. Tuttavia contiene qualcosa che riassume in sé tutto il resto, la gioia del Vangelo. Riassume tutto perché è gioioso in sé stesso. Il lieto annuncio è la perla preziosa del Vangelo, non è un oggetto, è una missione. Lo sa chi sperimenta la dolce e confortante gioia di evangelizzare. Il lieto annuncio nasce dall'unzione. Oggi Gesù ritorna a Nazareth e la gioia dello Spirito rinnova l'unzione della piccola sinagoga del Paese. Lo Spirito Santo si possa e si effonde su di Lui, ungendolo con olio di letizia. Il lieto annuncio, una sola parola, Vangelo, che nell'atto di essere annunciato diventa gioiosa e misericordiosa verità. Che nessuno cerchi di separare queste tre grazie del Vangelo, la sua verità non negoziabile, la sua misericordia incondizionata con tutti i peccatori e la sua gioia. Grazie. Grazie.